Ciao, io sono Luiz Naba di Industria Scenica. Industria Scenica è una cooperativa sociale che si occupa di welfare culturale, ovvero dello sviluppo di progetti e di azioni che mettono in relazione i linguaggi artistici con alcune componenti socio-affettive per generare benessere e per generare visione sociale. Se ti dico Industria Scenica, tu cosa mi dici? Industria Scenica è una cooperativa sociale che si occupa di welfare culturale, ovvero di andare a ricercare quali sono le connessioni culturali tra un bisogno sociale esposto da una comunità, da un gruppo di persone o dalla cittadinanza di un paese, di una città e le sue risorse culturali che possono spostare questo bisogno, rispondere a questo bisogno o trovare delle strategie per poterci avere a che fare. Industria Scenica e Decidi? Siamo partner di Decidi. Decidi è un gruppo di ricercazioni che si occupa di multimedialità. Decidi è una rete, è un network, è un tavolo di lavoro, è un modo per potersi confrontare sulla propria professionalità e un modo per poter fare ricerca e azione all'interno dei contenuti della media education. Decidi è un gruppo di ricerca, 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 è un gruppo di ricerca,